salve da system roulette salve a tutti sono le le 15 e un quarto quindi siamo tutti in piena digestione chi più chi meno continuiamo una giocata con un salvo abbastanza importante una vincita di ieri sistema che andremo appunto a utilizzare è l'opposto quindi il sistema si basa sulla puntata di cinque numeri pieni e partiamo direttamente da un euro di puntata a numero facciamo gire alla roulette 15 ok siamo già abbiamo già diciamo trovato la situazione ideale di puntata ok 5 euro di puntata totale primo spin secondo spin terzo spin quarto spin quinto sesto e settimo andiamo a raddoppiare per tre spin primo secondo e terzo nulla di fatto in questo caso se mi andate a puntare 2 euro 15 a numero mi fermo perché mi fermo potrei andare a raddoppiare ulteriormente avendo una buona cassa sicuramente al 90 per cento riuscirei a a prendermi un numero però è la quello che voglio anche spiegare in questo video è la fermezza diciamo nella in quello che andremo a fare cioè roulette giochi d'azzardo in generale alla lunga serie andranno avranno sempre la meglio quello che vogliamo dire e spiegare anche in questo questo video non solo per questo sistema ma un po per per tutti i sistemi generali che che si utilizzano abbiamo notato in varie diciamo varie sessioni quindi in vari soldi anche utilizzati anche anche persi o guadagnati che è bene bloccare la giocata attendere quindi una giocata nuova e andare direttamente con la stessa montata e persa per andare a riprenderti il perso e magari salire anche un po di casa facciamo girare la roulette ok abbiamo un'altra situazione ideale di puntata in questo caso vado direttamente a raddoppio primo spin secondo spin e lo prendo in pieno 72 euro il 5 così facendo sono andato a recuperarmi diciamo la cassa e forse sono ricordo quanto avevo guadagnato qualche bene così proseguiamo sotto il link in descrizione sotto il video descrizione scusate vi posterò anche il link se volete iscrivervi al gruppo telegram ormai sono contentissimo siamo già più di 30 persone dove si parla del più o del meno di sistemi comunque la roulette a 360 gradi dove posterò i miei video su di youtube e mi fa piacere più siamo meglio sarà perché in questo campo più versioni quindi più pensieri si hanno e più uno se ne in futuro se ne farà tesoro diciamo ecco qui abbiamo un'altra situazione ideale di puntata in questo caso parto di nuovo da un euro a numero primo spin secondo spin terzo spin quarto spin quinto spin spin sesto spin e settimo spin al settimo non lontano non troppo vicino siamo andati a recuperare e ad aumentare un po di cassa abbiamo già un'altra situazione ideale di puntata quindi procediamo subito sempre con un euro a numero primo spin secondo spin terzo spin quarto spin quinto sesto e settimo niente andiamo a raddoppiare per tre spin 1 2 e 3 ok al terzo al terzo spin del raddoppio andiamo a beccare il 5 continuando comunque a salire di casa facciamo girare nuovamente la roulette a vuoto ancora non ci permette di effettuare la nostra giocata ora si primo spin secondo spin al secondo spin ce lo giudichiamo numero 35 andiamo ancora l'ideale per questo sistema ma un po anche per tutti quando si tratta di roulette comunque automatiche quindi tu contro il processore senza altri utenti che giocano unisono nello stesso tempo è bene fare sessioni il più velocemente possibile incassare diciamo crearti una situazione di incasso che direi già precedentemente fil pre fissato in questo caso and andando a appuntare adesso se la puntata rientra intorno ai sette spie possiamo che concludere la sezione qui vincenti scusate per i messaggi sto facendo la diretta diciamo con lo smartphone mi è anche un po distratto un euro numero primo spie al primo colpo al primo colpo bene così un saluto a tutto il gruppo del canale al gruppo telegram scusate un saluto anche agli iscritti al canale youtube oggi è la giornata abbastanza piovosa io sono dalla sardegna mi chiamo carlo alias si stanno rulletti tali ciao a tutti un bacio per tutti da carlo ciao 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 ciao